Al nostro TV quest'oggi in primo piano le elezioni, si chiude la campagna elettorale e vi riepiloghiamo tutte le candidature in vista del voto di domenica e poi ci occupiamo della situazione della fatale 14 all'isonne e di salvaguardia delle api. Di tutto questo e molto altro nel nostro notiziario. Ben ritrovati dalla redazione di NostiV, apriamo il nostro notiziario occupandoci delle ormai imminenti elezioni. Sono le ultime ore e gli ultimi fuochi della campagna elettorale per le elezioni europee, per quelle amministrative stasera, gli ultimi comizi. Poi dalle 24 scatterà il silenzio elettorale. Domenica si vota dalle 7 alle 23. Nel Veneto orientale saranno oltre 207 mila gli elettori chiamati alle urne per le europee, più di 36 mila i cittadini al voto per le comunali. Ma sentiamo il riepilogo delle candidature nel nostro servizio di apertura. Dopo un mese di dibattiti, confronti, discussioni e liti, finalmente la parola passa agli elettori. Domenica si aprono le urne anche nel Veneto orientale. Si vota dalle 7 alle 23 per le elezioni europee, ma anche per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in nove comuni del territorio. Per le europee, nei comuni del Veneto orientale, sono chiamati alle urne 207 mila 849 elettori. Le amministrative nei nuovi comuni interessati coinvolgeranno invece nel complesso 36 mila 407 elettori. Vediamo dunque le sfide nei singoli comuni, partendo dal San Donatese. A Meolo è sfida tre, tra la sindaco uscente Loretta Liprandi, con la civica di centrosinistra uniti per Meolo, e due candidati di area centrodestra, Daniele Pavanna, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e Massimo Mazzonna, candidato di Scelgo Meolo. Tre, gli sfidanti anche a Fossalta di Piave. La maggioranza uscente della civica La Piave, sostenuta da Lega e Forza Italia, candida l'attuale vice sindaco Gianpietro Zaramella. A sfidarlo sono Marrico Finotto, di Fossalta Viva per il Bene Comune, e l'ex assessore Alessandra Sartoretto, alla guida dell'omonima civica. A Ceggia il sindaco uscente Mirko Marin corre per un secondo mandato con la lista impegno e partecipazione. Il Movimento 5 Stelle schiera Piera Semenzato, mentre la lista civica Ceggia candida sindaco Mambrino Scalonna. Nel portoguarese il comune più grande al voto è Concordia Sagittaria, dove si affrontano il sindaco uscente Claudio Odorico, con la lista per Concordia Claudio Odorico sindaco, e Franco Zanon di Progetto Concordia. A Fossalta di Portogruaro il primo cittadino uscente, Natale Noel Sidran, corre per un secondo mandato con la lista civica con Fossalta, mentre Alvise Innocente è il candidato di Insieme per Fossalta. Ad Annone Veneto il confronto nelle urne sarà tra il vice sindaco uscente Andrea De Carlo, che raccoglie il testimone della lista di maggioranza uscente insieme per il paese, e Victor Louvison di Mi Piace Annone, sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc. A Cinto Caomaggiore il sindaco uscente Gianluca Farcomera ci riprova alla guida della civica lista Caomaggiore, la sua sfidante Emilia Vida di Cinto Futura, appoggiata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sfida 2 anche a Teio Veneto, punta a raccogliere il testimone della maggioranza uscente Oscar Cicuto, della lista civica Il Tiglio, Mario Geremia, e invece il candidato sindaco di Teio Veneto Vivere Comune. Infine a Gruaro punta un nuovo mandato il sindaco uscente Giacomo Gasparotto, con la lista civica per Gruaro, mentre Ernesto Gianni Nosella è il candidato sindaco di Cittadini Responsabili. Domenica sera alle 23 alla chiusura delle urne inizierà lo spoglio per le elezioni europee, mentre per sapere chi saranno i nuovi sindaci bisognerà attendere lunedì pomeriggio, lo spoglio per le comunali inizierà alle 14. Cambiamo pagina, ci occupiamo di lavori pubblici nella Portogruarese perché sono in corso in questi giorni i primi rilevi tecnici di ANAS per la messa in sicurezza della strada statale 14 all'ISON. L'intervento è da tempo richiesto dalla cittadinanza e nel corso di questi mesi il comune di Portogruaro era in trattativa con lente per definire il progetto. Sentiamo allora i dettagli nel prossimo servizio. C'è finalmente una buona notizia per la messa in sicurezza dell'incrocio sulla statale 14 all'ISON di Portogruaro. Personale incaricato da ANAS ha infatti effettuato nei giorni scorsi il primo sopralluogo per i rilievi all'incrocio tra la statale e via Tigliana, dove verrà presto realizzata una rotatoria. L'opera è molto attesa dagli abitanti della frazione e riveste una particolare importanza in quanto andrà a risolvere l'annoso problema dell'accesso e dell'uscita in sicurezza verso la Triestina. L'anno scorso, proprio in quel punto, si verificò un tragico schianto che causò il decesso di una coppia di coniugi e il ferimento di una terza persona. Dopo diversi incontri e tavoli tecnici, ha commentato il sindaco Maria Teresa Senatore, si è addivenuti all'auspicata decisione di costruire la rotatoria. Vedere i lavori che prendono il via è una grande soddisfazione. La messa in sicurezza di quel tratto di strada è un obiettivo che questa amministrazione ha perseguito con tenacia. Ringrazio Anas per lo sforzo compiuto e per aver voluto come ente proprietario della strada farsi carico dell'opera, che avrà una grande valenza per il territorio di Lison e per tutti coloro che quotidianamente percorrono la statale 14. Una notizia di turismo dal litorale, Mirko Zanchetto e Franco Polato, entrambi imprenditori di Jesolo, sono stati eletti rispettivamente presidente provinciale della FIVA, Federazione Italiana Venditori Ambulanti, e della SILB, il sindacato italiano locali da ballo. L'elezione provinciale dei sindacati di categoria è avvenuta nella sede di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia. Intanto proprio Confcommercio ha organizzato per martedì prossimo nella sede di Jesolo il consueto incontro con i rappresentanti delle forze dell'ordine per affrontare assieme le tematiche più importanti alla vigilia dell'inizio della nuova stagione turistica. Il Comune di Musile di Piave propone un'iniziativa per salvaguardare le api grazie alla distribuzione della facezia, una fiore attrattivo per l'insetto. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e contribuire efficacemente alla sovravvivenza degli insetti pronubi. La manifestazione è in programma domani mattina, sabato 25 maggio, appunto a Musile di Piave, nel corso della quale si consegneranno i semi nei gazebi allestiti dalle 10.30 alle 12, in tutte le frazioni e in centro. Gli amministratori saranno a disposizione a Musile, Caposile, Croce e Mille Pertiche per la seconda edizione dello Zanzara Day, dove i cittadini potranno recarsi per ricevere in maniera gratuita le compresse antilarva, mostrando il proprio documento di identità. Sempre sabato mattina, ma alle ore 10, nella Sara Fallaci del Centro Culturale Bressanin-Sicara, è in programma inoltre una conferenza dal titolo Aiutiamo le api con un fiore, lo straordinario percorso di una goccia di miele. Iniziativa organizzata dalla comune di Musile di Piave con gli apicoltori di APAT. E agli esolo invece, mercoledì 29 maggio alle 11, si terrà un incontro pubblico per parlare di lotta alle zanzare, per rappresentare ai cittadini le misure messe in campo dall'ente per la disinfestazione e fornire ai privati consigli utili per contribuire all'accontenimento della proliferazione degli insetti. Ma sentiamo i dettagli nel servizio. Essere informati per proteggersi e contribuire attraverso buone pratiche e abitudine ad una sorta di immunizzazione collettiva. E' questo l'obiettivo dell'incontro pubblico insieme contro le zanzare del prossimo 29 maggio alle ore 11, nella Sara Rappresentanza del Municipio di Jesolo a cui parteciperanno, oltre agli uffici preposti, anche il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULS4 Veneto Orientale, con il Direttore Luigi Nicolardi, rappresentanti di Veritas Gico System, società quest'ultima che effettuerà ai trattamenti di disinfestazione sul territorio comunale. Nel corso dell'appuntamento si discuterà di prevenzione delle malattie trasmesse dalle zanzare anche alla luce degli episodi di contagio da virus West Nile che nel 2018 hanno interessato diversi comuni del Veneto e degli interventi in parte già iniziati da parte della società spazializzate e che proseguiranno per tutto il periodo estivo sulle aree pubbliche. La parte più importante dell'incontro sarà comunque incentrata sulle cosiddette misure di autoprotezione, vale a dire quelle azioni che i singoli cittadini possono mettere in atto per tutelare se stessi e contribuire in modo sensibile al contenimento del fenomeno delle zanzare. Un principio necessario considerando che solo il 20% circa del territorio di Jesolo è pubblico e che il restante 80% è fatto di proprietà private su cui le ditte incaricate non possono operare. La parte più efficace del contenimento delle zanzare si attua tramite interventi larvicidi e i cittadini possono richiedere gratuitamente le apposite pastiglie di biocida antilarvare messe a disposizione da Veritas S.P.A. anche presso gli uffici di Alisea. A Caorle è stata appena inaugurata la seconda edizione di Gustala 500. Tante novità quest'anno per la manifestazione che fa da contorno alla partenza della 500, la prestigiosa regata organizzata dal circolo nautico Santa Margherita. Ma ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio. Una speciale edizione di Sardè in Grea è l'appuntamento principale di questa prima giornata di Gustala 500. La manifestazione è che questo fine settimana accompagnerà Caorle verso la partenza della 500, la più importante regata d'altura dell'Adriatico. Il concorso culinario vedrà sfidarsi stasera nel porto Peschereccio 20 coppie di chef, di cui 15 composti da pescatori della marineria di Caorle e 5 da velisti che parteciperanno alla regata. Vincerà chi saprà preparare il miglior piatto a base di sardina alla griglia. A condurre l'evento sarà il giornalista gastronomico Stefano Cantiero, mentre l'animazione sarà affidata ai ragazzi del Veneto imbruttito. Domani sera, dopo lo Skipper Point, in Piazza Matteotti è previsto un concerto, mentre domenica, a partire dalle 12, le imbarcazioni partecipanti alla 500 ormeggiate nel porto Peschereccio saranno scortate verso il mare da alcuni pescherecci della flotta di Caorle, giusto in tempo per la partenza della regata. Gustala 500 sarà anche l'occasione per la presentazione di Sonia Project, progetto benefico legato alla messa in acqua di un'imbarcazione che sarà impiegata per promuovere la pratica della vela attraverso viaggi, vacanze, corsi di formazione e la partecipazione a regate di prestigio come la 500. Parte del ricavato di ogni iniziativa sarà devoluto ad associazioni benefiche di volontariato attive nella ricerca medico-sanitaria. E questa era anche la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordiamo che NostiV è presente su Facebook, YouTube, Instagram e sul canale Il13TV, disponibile sul tasto 13 del vostro telecomando o sul tasto 605. Dalla redazione di NostiV un grazie per l'ascolto e un arrivederci alle prossime edizioni del nostro notiziario. Grazie a tutti!